Ecco, oggi vorrei proporvi in questa quaresima come esercizio spirituale, come se volete uno dei propositi più belli che potete fare, di approfittare di questa quaresima per leggere il Vangelo di Matteo. E se riuscite a leggerlo abbastanza rapidamente, come credo, perché in fondo non ci vuole molto a leggere un Vangelo. Credo che il Vangelo di Matteo sia in tutto 18-19 mila parole, quindi volendo, se uno si impegna, ci mette qualche ora a leggerselo di seguito. E quindi si può fare, è una realtà, una possibilità, perché non siamo né analfabeti né abbiamo difficoltà a riperire il testo del Vangelo. Forse quello che ci manca è vincere quella pigrizia che ci separa dall'abitudine o di non pregare affatto, che questo è già un problema, oppure di non pregare, insomma, come potremmo, cioè aprendo la parola di Dio e cominciandone a nutrirci, leggendola. Quindi io vi suggerisco in pratica, Non lasciate passare una sola sera che non abbiate letto almeno una pagina o un capitolo, se volete, o almeno qualche riga del Vangelo di Matteo. Tenete bene il segno, almeno per riuscire a leggerlo una volta sola nel corso di queste settimane. Per la verità, io credo che potreste fare anche di meglio, e cioè praticare quella che è la mia devozione preferita. Leggere un Vangelo, e appena ho finito di leggere, ricominciare a leggerlo. Perché il vero motivo che ci impedisce a volte di comprendere la parola di Dio, che ce la lascia estranea, è la scarsa familiarità. Noi comprenderemo sempre meno la parola di Dio, quanto meno la leggeremo. Quindi c'è bisogno di tanta pratica in tutte le cose della vita. C'è bisogno di tanta pratica nel fare le cose piccole e le cose grandi. Ma anche per accostarsi alla parola di Dio, per amarla veramente, occorre leggerla, occorre gustarla personalmente, occorre farne oggetto di personale meditazione. Dico questo perché noi che credo siamo di quelli che veniamo messi a tutte le domeniche, assiduamente, che partecipiamo a tutte le iniziative che il paroco ci suggerisce, siamo di quelli che forse crediamo di ascoltare abbastanza la parola di Dio. Beh, non è mai abbastanza. Non è mai abbastanza. E poi soprattutto corriamo un rischio, quella di conoscere, di avere un rapporto con la parola di Dio che in realtà è abbastanza frammentario, occasionale, spezzettato. Ecco, credo che la parola di Dio, la scrittura, meriti da parte nostra un approccio diverso, soprattutto i Vangeli. Soprattutto i Vangeli perché sono un racconto. E un racconto va visto nel suo insieme, va catturato in tutto il suo svolgersi. Ecco, se ci pensiamo bene, il Vangelo di Matteo è fatto di azioni e di parole di Gesù. Sapete che è diviso in cinque grandi discorsi di Gesù che precedono la parte più importante che è il racconto della passione, proprio quella di cui parleremo questa sera. Ebbene, ogni parola di Gesù, ogni atto di Gesù assume il suo pieno significato alla luce di tutto il racconto. Perché è in tutto il racconto che l'Evangelista vuole introdurci all'incontro con il mistero pasquale, con il mistero che è Gesù stesso. Quindi ogni parte dell'Evangelo acquista senso nel tutto. E poi quello che dovremmo fare in realtà è imparare a distinguere il ritratto che ogni evangelista fa di Gesù. Per poi, alla fine, dopo averli conosciuti tutti, tutti e quattro gli evangelisti distintamente, arrivare a una comprensione ancora più profonda di chi è Gesù. Proprio componendo, alla fine del percorso, la figura che ciascun evangelista ci offre arricchita da quella di un altro evangelista. E quindi, torniamo a noi, torniamo al Vangelo di Matteo. Cosa ha di caratteristica il racconto di Matteo? Ecco, detto, questa sera ci vogliamo concentrare in particolare sugli ultimi tre capitoli del Vangelo, il capitolo 26, 27 e 28, quelli che sono il racconto della passione e della risurrezione di Gesù. E già qui vi do una chiave di lettura del percorso di questa Quaresima. La Quaresima è una preparazione alla celebrazione della Pasqua. E la Pasqua non si ferma alla Via Crucis. E anche se al cuore della riflessione quaresimale ci viene proposto di vivere la nostra personale Via Crucis, la Via Crucis però è illuminata in tutto il suo significato dalla risurrezione, dalla Pasqua del Signore, che è ciò verso cui il racconto dei Vangeli tende e la vita di tutti noi tende. Noi non siamo di quelli che non hanno speranza, direbbe San Paolo. Non è che ci limitiamo a prepararci alla sofferenza e alla morte. Non è questo. Noi siamo coloro che hanno speranza e che si preparano alla risurrezione e che affrontano la passione e la morte, sia quella di Gesù, sia quella che riguarda in qualche misura a tutti noi, con lo spirito di chi ha saputo trovare nella morte e nella resurrezione di Gesù un significato. Quindi noi siamo credenti. Siamo cristiani perché crediamo nella Pasqua. Allora, vi dicevo, vi propongo di leggere insieme in queste serate il capitolo 26, 27 e 28 del Vangelo di Matteo. Io ce l'ho qui in formato digitale, ma un formato vale l'altro, mi porto il mio iPad, però insomma potete portare la carta che va benissimo e seguirlo.